pace di cristo oggi abbiamo un invito speciale per te per tutti gli uomini in ascolto vogliamo dirvi di non perdere il prossimo evento in programma il giorno 8 dicembre 2016 dove presso e un hotel via leonardo da vinci 36 a trezzano sul naviglio milano per poter confermare la tua partecipazione e avere ulteriori informazioni al riguardo potete contattare il ministro bracuto tramite mail all'indirizzo alessandro chiocciolantioca.it o al numero 334 39 18 793 per torino invece potete contattare il ministro luongo tramite mail all'indirizzo enzo chiocciolantioca.it o al numero 393 90 55 771 l'attività è rivolta per il settore nord italia quota di partecipazione euro 25 incluso il pranzo ricordiamo il tema la sua missione è la mia passione dio vi benedica non mancare pace di cristo l'attività è rivolta per il settore l'attività è rivolta per il settore l'attività è rivolta per il settore l'attività è rivolta per l'attività 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 dell'attività Grazie.